Marta una bellissima serata questa perché il risultato, quello che hai conquistato domenica è stato straordinario aver riportato, aver portato il campionato d'Europa, la maglia di campione d'Europa in Abruzzo. Sì, è stata una gara di eccellenza, credo che è stato fatto un lavoro veramente stratosferico anche dalle mie compagnie io praticamente ho messo quasi la firma finale, però questo diciamo mi fa, mi dà forza per andare avanti per continuare su questa strada, ho fatto tantissimi sacrifici e quindi so di doverne farne ancora ma sono pronta a questo. Ti posso chiedere quando è che hai cominciato a pensare di potercela fare, quando l'Olanda tirava con la Van der Brecken in fuga? Forse sì, avevo capito che c'era qualcosa che non andava e qualcosa che nei loro piani si era un po' diciamo distorto quindi noi eravamo lì pronte a qualsiasi cosa e infatti ci siamo fatte trovare veramente pronte e poi abbiamo appunto favorito la volata finale. L'abbraccio a tutte le tue compagne non è stato casuale proprio per questo perché questa è una vittoria davvero con il tuo nome in calce ma costruita con la squadra. Sì, è stata una vittoria di squadra sicuramente, una vittoria dove credo che in alcuni casi ci credevano più loro che io perché al penultimo giro forse ero quasi incerta, poi volevo che la fuga andasse via, però credo che veramente questo ripaga, il lavoro di squadra ripaga poi nel lavoro finale. Gandwe Welgem, Dottin, Freccia del Brabante, campionato europeo 2018 da incorniciare. Sì, diciamo che adesso siamo a quota 8 e spero di riuscirne a vincere altre due per arrivare a 10 e poi mi ritiro. Non le, diciamo che difficilmente le sogno a parte quelle più importanti, però dai adesso da adesso in poi abbiamo anche molte altre belle gare quindi magari due ancora di Affernan e non è che mi dispiacerebbe. È vero che c'è la possibilità di non vederti al campionato del mondo? Allora, mi è stato accennato questa cosa, io non ho ancora letto nulla, quindi può darsi che magari ci sia questa nuova regola da quest'anno che i campioni di Europa non vadano più di diritto, però magari non è così e ci devo andare, quindi magari mi vedrete lì insomma.